Le priorità per i centri minori, approvati gli indirizzi per il sostegno alle aree interne a seguito della crisi provocata dalla pandemia. Via libera ai bilanci arti, approvati i documenti 2019-2021 dell'Agenzia regionale per l'impiego. Buonasera e ben trovati a questo nuovo appuntamento con Monitor Consiglio. Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato all'unanimità l'atto di indirizzo sulle priorità per le aree interne a seguito della crisi sociale ed economica provocata dalla pandemia da Covid-19. Le aree interne sono i centri minori, spesso di piccole dimensioni e distanti dai maggiori centri urbani che in molti casi garantiscono ai residenti soltanto un accesso limitato ai servizi essenziali. L'atto è stato illustrato in aula dal Presidente della Commissione Aree Interne, Marco Nicolai. Sentiamo proprio Nicolai e poi alcuni rappresentanti dei gruppi politici. La Commissione Aree Interne è stata una scommessa che abbiamo fatto all'inizio di questa legislatura e io come Presidente ho voluto subito sottoporre alla valutazione della Commissione alcuni indirizzi che oggi abbiamo approvato unanimemente. Indirizzi che sono concreti perché poi alla fine noi dobbiamo misurarci su questioni che riguardano questi territori a come dare ad essi, che sono così importanti nella regione toscana, una mano che sia concreta e reale. Alcuni punti che abbiamo posto all'attenzione. Innanzitutto noi nel 2020 abbiamo erogato come regione 2 milioni e mezzo circa di fondi ai comuni montani, e all'unione dei comuni per alcuni progetti. 15 progetti che sono venuti dai territori erano meritevoli di finanziamento ma non c'erano risorse sufficienti. Noi chiediamo alla Giunta che nei prossimi atti di bilancio siano coperte o il finanziamento di questi 15 progetti. Così come rispetto al bando del sistema neve per gli ammodernamenti delle loro infrastrutture ci sono ancora 300 mila euro di richieste da finanziare. Potrei continuare con la questione del piano di sviluppo rurale. I territori montani hanno il problema dell'abbandono. L'agricoltura è l'antidoto ai fenomeni di abbandono, non solo in montagna. Noi quindi abbiamo chiesto alla Giunta un'attenzione particolare, visto che si sta trattando con l'Europa il prossimo piano di sviluppo rurale, sul ricambio generazionale perché se ci sono giovani che vogliono fare dell'agricoltura il loro futuro e la loro professione devono essere in condizione di farlo. Sul tema della forestazione perché la superficie boschiva non è solo un problema, è anche una grande risorsa che deve essere mantenuta. e ovviamente anche la questione dell'indennità per le aziende agricole nelle aree montane. Abbiamo fatto alcune richieste anche al Governo, in particolare per l'Amiata e la Val di Cecina, che sono le cosiddette aree interne assieme alle zone dell'Appennino, che nel 2015 sono rientrate nella progettazione. Queste due aree, quindi Amiata e Val di Cecina, sono state ammesse ma per mancanza di risorse non sono state finanziate. Sappiamo tutti che le aree interne soffrono da tanto tempo, per tante motivazioni. Noi dovremo tener conto dei problemi legati anche all'agricoltura nelle zone montane, che è molto più difficoltosa rispetto a quella delle zone pianeggianti, e però è un presidio importante per tutto il territorio. Io in particolare cerco di prestare l'attenzione anche alla scuola in quelle zone e anche ai servizi sanitari territoriali, perché senza queste due importanti istituzioni la gente se ne va e la montagna si spopola. E invece bisogna che la gente rimanga in montagna, perché solo vivendola alla montagna può servire anche alla città. Perché io dico che se le zone montane sono popolate, da persone che vivono il bosco e vivono tutta la zona, ai benefici arrivano fino alle città. E quindi è giusto che ci sia questa commissione, che per ora ha fatto una proposta votata all'unanimità in Consiglio, e poi piano piano vedremo quali saranno le soluzioni da prendere. Inoltre ho chiesto anche al Presidente Nicolai, e lo stanno facendo, che gli uffici compilino una specie di elenco di tutte le questioni che riguardano le zone montane, che sia di più facile consultazione anche per noi commissari, per capire meglio le problematiche e in che modo si può incidere per aiutarli. Are interne in montagna sono tra le zone più sofferenti in questa fase. Abbiamo chiesto misure straordinarie per aiutare le imprese, le aziende, i comuni che in montagna hanno visto saltare di per sé una stagione. Abbiamo chiesto delle misure straordinarie. Noi nel nostro piccolo, grazie a me, abbiamo dato una misura simbolica ai maestri di sci, ma quello era simbolico. Ora servono risorse vere per tutti quei ristoranti, per quegli alberghi, per quelle imprese, per quei comuni che vivono la realtà centrale della Toscana ancora più complessa rispetto ad alcune dinamiche, fuori da alcune direttrici e alcune linee di ristoro nazionale. Quindi la Toscana può fare qualcosa, lo deve fare il Governo, lo può fare la Regione. Insieme dobbiamo tempestivamente dare una misura importante di ristoro a queste realtà. Io ho fatto parte della Commissione Costiera per i cinque anni precedenti e la mia esperienza non è positiva. Quella che è stata la Commissione Costa è stato semplicemente un gruppo di consiglieri che girava per la costa per evidenziare delle criticità che in Regione Toscana tutti dovevamo conoscere a menadito. Io spero che la Commissione Aree Interne non sia una cosa analoga, ma al momento non sembra essere cambiata molto. In questo momento, banalmente, per il fatto che siamo in emergenza Covid, sta recependo quelli che sono i problemi delle aree interne, ma la Regione dovrebbe farsene carico anche senza bisogno di questa Commissione. Ci dovremmo forse chiedere come mai abbiamo bisogno di commissioni specifiche per queste aree. Perché allora ci riempiamo la bocca di Toscana diffusa, quando poi non è così e addirittura abbiamo bisogno di una Commissione per scoprirlo? Cambiamo argomento via libera a maggioranza in aula al bilancio di esercizio 2019 e a quello di previsione 2021 dell'Agenzia regionale per l'impiego. Le due proposte di delibera sono state illustrate dalla Presidente della Commissione Sviluppo Economico, Ilaria Bugetti. Arti si conferma una rete di centri per l'impiego che ha dimostrato negli anni di saper soddisfare l'incrocio della domanda e offerta con una risposta di soddisfazione che va circa sul 98%, raccogliendo le richieste di circa 18.200 imprese, un volume di circa 60 milioni. Abbiamo fatto una grande riflessione su Arti perché la rete dei centri dell'impiego che conta 500 dipendenti più altri 250 che fanno capo alla rete degli Ampal e quindi navigator utilizzati anche in questo periodo per l'inserimento lavorativo è una grande rete che dovrà nei prossimi mesi, e questo l'abbiamo detto anche in occasione del bilancio di previsione, fare conti con una situazione lavorativa ed economica della nostra regione che sta profondamente cambiando purtroppo e quindi ci sarà la necessità sia di formare sia di cercare di ricollocare figure che sicuramente ne avranno bisogno. Certo lo slittamento per alcuni lavoratori al 31 dicembre del blocco dei licenziamenti ci aiuta e ci dà il tempo anche di capire e di fotografare in tempo reale come funziona l'andamento delle politiche del lavoro. Quindi un grande ringraziamento alla direttrice e a tutti gli impiegati che durante anche questo periodo si sono impegnati a lavorare e ad ascoltare le persone anche con modalità da remoto, con modalità online, non sempre i colloqui di persona erano possibili e questo sicuramente ha costretto a trovare nuove metodologie anche se difficili però per adesso abbiamo retto, non sono diminuiti i colloqui e quindi dovremmo di nuovo nei prossimi mesi cercare di migliorarci per arrivare a tutti coloro che hanno difficoltà e che perdono il lavoro. Arti sarà fondamentale in quella fase che la Toscana attraverserà dopo che sarà tolto il blocco dei licenziamenti. Nelle audizioni, nelle confronti che abbiamo avuto in commissione e ho sentito la dirigente che di questo è consapevole, sarà importante quindi mandare molte risorse per quanto riguarda il front office perché ci ritroveremo davanti a un gran numero di domande di disoccupazione e sarà importante cercare il ricollocamento. Quindi diventa importante ricevere questa quantità di persone, provvedere anche a quello che è il reddito di cittadinanza e tutte le pratiche e attivarsi bene e lo stanno già facendo per una modalità di contatto che sia sia telematica che dal vivo. Sarà fondamentale quella dal vivo perché il supporto che si dovrà dare a queste persone sarà anche di vicinanza emotiva e in questo devo dire che i professionisti del settore sono stati molto bravi in questi anni e noi dobbiamo dargli però una mano economicamente e organizzativamente. Voltiamo ancora pagina. Con un valore della produzione di circa 3 milioni e 300 mila euro e un costo della produzione di circa 3 milioni e 200 mila euro un risultato in pareggio per gli importi di Irap e di Ires il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza il bilancio preventivo 2001 dell'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana. Sentiamo per primo il Presidente di Commissione Giacomo Bugliani e poi i rappresentanti di alcuni gruppi politici in Consiglio. L'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana svolge da sempre un ruolo importante e prezioso di collaborazione sia con il Consiglio che con la Giunta regionale. Questo è stato l'ultimo bilancio di previsione presentato dal Direttore uscente il Dottor Casini Benvenuti nel quale peraltro viene attestato il programma di attività per l'annualità 2021 e per il prossimo triennio. Si sa che le risorse principali di cui si avvale IRPET vengono dal contributo ordinario della Regione Toscana ma anche da una importante attività che IRPET pone in essere rispetto ai fondi europei in stretta collaborazione con la Regione Toscana. Le spese principalmente sono quelle relative proprio all'attività di ricerca e ai servizi collegati all'attività di ricerca nonché quelle relative al personale. Il conto economico si è quindi presentato pari a 3.300.000 euro circa proprio derivante sia dalle spese di gestione sia dai ricavi con una chiusura che è sostanzialmente in pareggio in sintonia con quanto disposto dalla delibera della Giunta regionale del 2019. Il Consiglio regionale ha espresso rispetto al bilancio di previsione di IRPET un parere favorevole a larghissima maggioranza trovando anche la convergenza di molte delle forze di opposizione. Noi abbiamo votato a favore perché se qualcosa ha sbagliato IRPET è soprattutto per colpa della Giunta regionale. Per esempio la Giunta regionale ha presentato tardi il programma di attività e quindi il bilancio è stato concluso, purtroppo non nei tempi. Però bisogna vedere nei numeri, oggettivamente siamo abbastanza soddisfatti del lavoro che viene fatto e di un bilancio dove le voci di entrata di spesa ormai sono consolidate. Per quanto riguarda l'entrata è il contributo della Regione, per quanto riguarda l'uscita è il costo del personale che però occorre mettere in evidenza da 37 unità e passata da 35. Quindi è vero che c'è stato un leggero aumento ma non dovuto a IRPET ancora una volta, quanto piuttosto al contratto collettivo di lavoro nazionale, a una nuova contrattazione. Quello che mi ha messo in evidenza è proprio la visione di IRPET che a noi rispetto a quella della Giunta veramente ci trova alquanto d'accordo con la necessità di ricostruire la Toscana. Quando sento parlare Gianni in aula è sempre un continuo insistere su politiche ormai che sono superate, sono quelle già del predecessore rossi. IRPET invece parla soprattutto a causa della pandemia e della necessità di ricostruzione. È una Toscana che guarda al 2020. Sulla base degli studi di IRPET noi stiamo lavorando per far sì che possano esservi delle sollecitazioni. Credo che il voto della Lega sia un voto di maturità perché quando un istituto di IRPET lavora bene e fa un buon bilancio credo che sia opportuno votare a favore. Sì, l'istituto regionale sta facendo un lavoro importante sicuramente lo dovrà fare nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Dovrà soprattutto calcolare, studiare, comprendere gli effetti della pandemia sulla economia della Toscana e vedere zona per zona qual è stato l'impatto economico che si è tramutato ovviamente in ambito locale e quindi nei prossimi anni ridisegneremo una Toscana nuova. Deve essere uno studio importante perché deve essere propedeutico al nostro nuovo piano di regionale di sviluppo che dovrà collegarsi con i finanziamenti comunitari e con i finanziamenti dei recovery plan. Quindi una Toscana che sicuramente uscirà diversa da come è entrata in questa pandemia con delle situazioni che avranno in alcuni casi peggiorato il proprio status economico più di altri e su questo dovremo costruire i prossimi piani di programmazione regionale. IRPET è sicuramente un organismo fondamentale perché ci aiuta ad approfondire anche degli aspetti molto tecnici del lavoro che facciamo. Dal punto di vista del bilancio abbiamo delle perplessità per esempio il grande numero di consulenze che serve. Io credo che queste consulenze andrebbero internalizzate per avere anche modo di utilizzarle sotto i vari fronti di cui la regione toscana avrà bisogno nei prossimi anni. Si parla del piano resilienza che è immediato ma io parlo anche di sette anni ad esempio di Unione Europea di nuovi progetti che si portano avanti e sicuramente di una resilienza che deve essere riscritta per la regione toscana. IRPET può servire ma sicuramente le spese fatte ora ci fanno capire che forse non è impostata nel livello ottimale. Sul bilancio di IRPET abbiamo votato contro perché c'erano molte cose che non ci tornavano. A partire dal bilancio che è stato presentato in ritardo siamo poi passati allo sforamento del tetto sul personale quindi sui soldi che devono essere dati al personale e allo sforamento sul tetto previsto in bilancio per gli incarichi esterni e le consulenze. È inaccettabile che un ente partecipato dalla regione toscana porti un bilancio in questo modo. Oltretutto IRPET vive esclusivamente di finanziamento pubblico. Oggi siamo a un cambio di passo. Verrà nominato a breve il nuovo direttore. Auspichiamo che il nuovo direttore venga scelto per competenza, per professionalità e per merito. Non certo per appartenenza, per quell'appartenenza partitica contraddistinta dal Partito Democratico che sceglie le persone che hanno le tessere. Questo sistema di gestione a noi non piace e lo abbiamo sempre combattuto. Saremo al fianco di IRPET quando IRPET avrà competenza, professionalità e merito e quando lavorerà per i cittadini e per le cittadine toscane sfornendo dei dati e in più chiediamo ad IRPET anche di fare un cambio di qualità e lo chiediamo anche alla politica cioè di mettere in relazione quelle che sono le nostre agenzie con i dati di IRPET perché ad oggi assistiamo in regione toscana a troppe agenzie ma soprattutto che sono tutte scollegate fra di loro. Occorre coordinamento. È tutto per questo appuntamento con Monitor Consiglio. Grazie per l'attenzione e buona sera. Grazie per la visione! Grazie per la visione!